Ciao ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, ieri è uscita ufficialmente la patch che tanto aspettavamo su FC25, una patch che dopo averla testata oggi andiamo ad analizzare nel dettaglio per vedere effettivamente cosa è cambiato e cosa dovrebbe secondo me ancora essere modificato per rendere questo gioco davvero fruibile. Io direi di partire da uno dei problemi principali che ci stavamo portando dietro dall'inizio del gioco che sono le trivele, trivele che come potete vedere da questo clip ragazzi io non è che ho riscontrato essere state depotenziate eccessivamente, anzi come in questa qui della Puteas che non ha neanche la trivela come playstyle d'argento ho riscontrato anche dei movimenti dei portieri strani, non avevo mai visto prima il portiere andare all'interno della porta. Ma se vogliamo queste qui magari sai possono essere comunque fatte in posizioni del campo dove le posso accettare, il time ed verde sicuramente da una mano quindi voi magari potrete anche dire vabbè Matteo queste qua sono abbastanza accettabili, l'avversario non ha fatto niente per difenderle e questo potrebbe essere un punto che vi posso trastare. Però guardatemi qui la Fridolina Rolfo che va sull'esterno in una zona dove io non dovrei neanche minimamente pensare di calciare eppure calcio e segno. Quindi il problema delle trivele secondo me rimane un problema che soprattutto per quelle lì fatte in zone dove non dovrebbero esistere va assolutamente cambiato quanto prima. Un'altra delle cose di cui si parlava all'interno della patch era il driven pass, una meccanica che all'interno di un gioco dove i passaggi non vanno un granché si diceva doveva essere depotenziata, in realtà ragazzi come potete vedere qui da questa girandola di passaggi a me sembrano molto potenziati, non solo a me l'han detto tutti, anzi vanno a dare un po' più di dinamismo lì davanti. Infatti io mi ero espresso molto negativo nei confronti di un depotenziamento auspicando anzi che questi passaggi venissero migliorati e infatti incredibilmente sono stati migliorati i driven pass al contrario di ciò che era stato annunciato permettendo di velocizzare molto dunque l'azione negli ultimi metri e questo con le difese che comunque rimangono forti ma ci arriviamo a breve rimane sicuramente una cosa molto interessante. Qui potete vedere una trivela anche fatta in partita in una situazione di difesa a 5, difesa a 5 che ha lasciato uno spazio in più centrale ma che adesso ci andiamo ad allinzare per bene perché ho avuto modo di giocarci contro, ho avuto anche la fortuna di poter andarmi a rubacchiare un po' con gli occhi quello che è stato l'allenamento fatto nel pomeriggio dal Bonobrun che ha giocato contro altri player che avevano la difesa a 5 e rispetto a quello che era stato un primo feedback che avevo avuto giocando online normalmente stamattina mi sono reso conto che quando si becca un player molto forte in realtà andando a fare qualche switch difensivo in più si riesce tranquillamente a gestire la difesa a 5 non dico come prima ma comunque essendo sempre molto arroccati. Questo perché il problema di base del quale io lamentavo anche nei giorni precedenti non sono le difese a 5 in sé ma è la CPU in area di rigore che veramente favorisce di troppo la difesa in determinate situazioni veramente senza toccare neanche un difensore. Quindi in realtà quello che io spero accada a breve è che venga depotenziata la CPU in generale perché è vero che chiaramente non giocheremo tutte quelle che sono le partite delle rivals, tutte quelle che possono essere le partite della weekend league contro avversari del calibro di Obrun, Danny Pitbull o chi per esso. Però secondo me il fatto che magari quando ci ritroviamo contro delle difese a 5 portate da casual player se vogliamo definirli così attualmente ci sembrano meno performanti perché il livello medio delle squadre non è ancora molto elevato. E' vero che tanti ormai iniziano ad avere vari Van Dijk, Saliba eccetera ma sebbene molto forti non sono dei giocatori super perfetti perché comunque sono delle carte oro per cui io credo che al momento sia stata piazzata una toppa, diciamo è stato messo un leggero argine a quella che è questa situazione del divese a 5 ma temo fortemente che qualora il livello delle squadre poi andrà a salire e i giocatori che inizieranno a uscire saranno sempre più forti la CPU aumenterà ulteriormente e quindi dall'andare leggermente a creare questo vuoto difensivo che si crea soprattutto tra i tre difensori centrali, difensori più forti vanno a mantenere la posizione. Io spero che questa cosa sia stata testata da chi di dovere però onestamente ho dei dubbi perché ripeto a guardare quelli forti forti giocare onestamente ho avuto un po' i brividini perché mi sembrava che comunque le divese a 5 fossero tremendamente performanti. Chiaro, ripeto, quando andiamo a fare le nostre partite di Rivals e di Weekend League un minimo per andare a trovare degli inserimenti di spazio lo si riesce a trovare però occhio perché poi sappiamo che tante volte il gameplay è influenzato da quello che può essere il delay di server, le nostre connessioni eccetera e quindi in situazioni, in condizioni non ideali potremmo avere comunque delle difficoltà. Andiamo adesso ad un'altra parte molto importante che riguarda l'aggiornamento ovvero quella della migliorata intelligenza artificiale quando si va ad attaccare. Come potete vedere già da questa azione abbiamo qui un inserimento di Nico Williams fatto con i tempi giusti, fatto nello spazio giusto senza dover utilizzare l'L1 per far inserire il giocatore o addirittura il player lock. Questo onestamente era uno dei temi che più mi premeva quando ho letto la patch perché si diceva appunto che determinati ruoli soprattutto come l'attaccante ombra, l'attaccante interno eccetera avrebbero fatto dei movimenti migliori. Quindi avevo avuto questo barlume di speranza perché insomma avere giocatori che si muovono leggermente meglio aiuta di certo tanto ad impensirire delle linee difensive che dunque non possono essere più schierate in maniera così statica ma un minimo di switch te lo richiedono anche senza l'utilizzo di meccaniche particolari. Infatti vi avevo detto che quest'anno fino ad ora il player lock era molto importante, rimane importante però adesso i giocatori seguono molto di più l'azione in particolare il trequartista con attaccante ombra va a fare tanta densità, va a accompagnare molto bene l'azione, si ritrova spesso in area di rigore un po' come succedeva l'anno scorso se vi ricordate il mio 4-5-1 ci ritrovavamo praticamente con 4-5 giocatori ad attaccare dentro l'area di rigore. Qui potete vedere anche un L1 filtrante alto che di prima o non di prima, storti o non storti secondo me rimangono abbastanza fortarielli con o senza playstyle, qui avete visto la guiarro ma a maggior ragione la guiarro avendo playstyle e statistiche elevate di passaggio doveva essere una delle carte più colpite da questo aggiornamento ma questo non succede. Quindi ritornando invece ai movimenti offensivi, questo secondo me ci può permettere di recuperare anche tutta una serie di moduli come può essere lo stesso 4-5-1 che già vi ho portato sul canale o il 4-4-1-1 che per esempio ho iniziato a utilizzare proprio dopo la patch e che onestamente mi è piaciuto abbastanza. Lo proverò oggi che state vedendo questo video in Weekend League e sceglierò poi le giuste modifiche prima di portarvelo qui sul canale in maniera tale che ne possiate usufruire tutti come al solito. Vedete qui la Puteas come è andata ad inseguire quello spazio dove la Shelly invece si era allargata e si ritrova in una posizione ideale per calciare. Quindi diciamo che questo lo trovo un aspetto positivo. Quello che però trovo incredibilmente negativo ad oggi è ancora questa incredibile mancanza di velocità dei giocatori. Una mancanza di velocità che ovviamente non fa riferimento allo speed boost perché come vi dicevo nel video precedente lo speed boost andava sicuramente depotenziato. Non ucciso ma depotenziato. Ma quando proprio parlo di velocità palla al piede parlo dello scatto banale con R1 quando magari ho fatto una bella azione ho liberato il mio giocatore in campo aperto che può essere Mbappé, Vinicius, Adeyemi o chi per esso viene puntualmente recuperato da difensori che hanno molta meno velocità dell'attaccante in questione. Ho messo nelle storie su Instagram qualche giorno fa una clip clamorosa di Mbappé che si faceva mangiare da mi pare Bremer, una roba del genere. Ma come potete vedere anche in questo caso qui proprio si fa una fatica a prendere velocità. Io credo che questo sia un problema che si è originato nel tempo con il nuovo motore grafico e in particolare con l'avvento degli stili di corsa, lenghti eccetera. Vi ricordate FIFA 23 si poteva giocare solo con quelli lenghti. L'anno scorso secondo me si era arrivato ad un perfetto bilanciamento con la possibilità di utilizzare sia giocatori lenghti ma anche giocatori quelli più piccolini explosive perché le statistiche di velocità erano effettivamente quelle e quindi se un giocatore era veloce correva a prescindere da quello che era il suo stile di corsa. Quest'anno invece non c'è stile di corsa che tiene, non c'è statistica di velocità che tiene, sembrerebbe quasi che i giocatori mancano di alcune animazioni per liberare quella che è la loro velocità in corsa e come se quindi fossero rallentati di proposito e questa è una cosa che a me fa impazzire perché in un gioco già poco fluido avere anche questa carenza di velocità chiaramente comporta tutta una serie di cose negative che noi andiamo poi a riscontrare effettivamente quando ci ritroviamo all'interno di una partita. Motivo per il quale anche sul Discord dove segnaliamo i problemi ho segnalato questa cosa e spero che contestualmente a quella che è un'ulteriore diminuzione di CPU sarà oggetto della prossima aggiornamento proprio alla velocità. Ragazzi per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento se effettivamente vi trovate con me e quali saranno le modifiche che secondo voi necessita FC25 per poter essere un gioco che quantomeno ci fa divertire. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e a me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Riberovski e a presto, ciao!